Il 5G è una leggenda, almeno nella mia città, ma nelle grandi metropoli non è così. Un esempio lo troviamo infatti a Torino e a Roma, dove a breve arriverà la navetta a guida autonoma di terzo livello di Navia, portata in Italia in collaborazione con Team. Ci potranno entrare fino a 15 passeggeri, 11 seduti e 4 in piedi e raggiungerà la velocità massima di 25 km orari tramite un motore elettrico da 22,6 kW nominali e 34 di picco. I motori saranno alimentati da una batteria da 33 kWh che garantirà un'autonomia di circa 9 ore. Come una qualsiasi auto elettrica si ricaricherà in corrente alternata a 3,7 o 7,4 kW in 12 ore nel primo e 6 ore nel secondo caso. Una delle tante peculiarità di questa navetta sono le quattro ruote sterzanti con un raggio di sterzata inferiore a 4,5 metri che le consentiranno manovre in spazi molto ristretti, tipici nell'ambito urbano, almeno di quello italiano. La navetta comunica costantemente i dati sull'ambiente circostante e sul traffico attraverso la connessione a bassa latenza 5G di Team direttamente all'Edge Computing, un sistema di Navia in Spagna dove dei computer processeranno i dati ricevuti e miglioreranno la sicurezza su strada. La connessione ed il processing di questi dati è così rapido che il sistema potrà rilevare ostacoli e spedire alla navetta un itinerario preciso da seguire o eventualmente fermarsi finché l'ostacolo non sarà più nel suo raggio di azione. Nelle versioni in circolazione oggi sarai là a bordo un conducente, anche se in realtà la navetta non ha freni o volante, ma questa persona potrà intervenire in caso di errori. La navetta comunque memorizzerà il comportamento e imparerà dagli errori per arrivare in un futuro dove si guiderà autonomamente al 100%. Queste navette oggi hanno già fatto oltre 3 milioni di chilometri perché ne esistono ben 180 in 26 paesi diversi. In Italia attualmente una sola è esposta a Roma, l'Innovation Lab di Team, ma ne arriveranno presto due a Torino e poi a Roma e a Bari. Chissà come andrà a finire e a proposito di buona notizia, vi ricordate i vari rumors che vedevano Huawei lanciare una imminente auto elettrica? Bene, ci sbagliavamo, o meglio, ci sbagliavamo in parte. Sì, perché a sorpresa Huawei la scorsa settimana ha presentato la sua Aito M5, un'auto con due motori elettrici disponibile appunto in due versioni con trazione posteriore o integrale e alimentata da una batteria a litio. Ancora non si sanno quanti saranno i kilowattore delle batterie, ma sembra che importi poco in quanto potrà avere un motore 1500 turbo a benzina a quattro cilindri che fungerà da generatore, in grado di ricaricare la batteria al bisogno. La Aito M5 sarà disponibile da febbraio in Cina ed il prezzo partirà da 34.000 euro per la versione a trazione posteriore e per la versione integrale invece 38.000. Un prezzo tutto sommato che non sorprende, data anche la dotazione tecnologica di primo ordine. Troviamo infatti tutti gli assistenti alla guida disponibili oggi, compreso il sistema di guida autonomo a livello 2, un display centrale da 15 pollici con a bordo il sistema operativo Harmony OS in grado anche di proiettare film, collegarsi con sistemi di streaming, eccetera eccetera. Non sembra affatto male devo dire la verità e a proposito di cose fighe ecco il Thunder Truck, un SUV elettrico in stile Cybertruck con 180 kilowattora di batteria e 644 chilometri di autonomia a trazione integrale ed 800 cavalli per una coppia di 1085 newton metro e 0103,5 secondi. E udite udite, dal tetto si potranno estrarre 11,6 metri quadri di pannelli solari. Te racconto così velocemente ragazzi perché non sono certo che lo produrranno mai, ma se dovessero veramente farlo sarebbe una figata estrema. E cos'altro sarebbe figo? Beh avere gli incentivi per acquistare le auto elettriche anche nel 2022 e invece no, purtroppo nella legge di bilancio infatti ancora da approvare definitivamente non c'è assolutamente traccia di un contributo per l'acquisto delle vetture ecologiche. Secondo una stima dell'ANFIA, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, l'assenza di questi incentivi vorrà dire che il mercato italiano si vedrà rinunciare a circa 161.000 veicoli venduti, circa due terzi in meno rispetto alle previsioni di vendita con ecobonus. E quindi cosa accadrà? Beh secondo me niente è ancora scritto, ma se le cose andranno così chi ci perderà sarà solo la nostra salute e anche le aziende italiane che producono sia le auto elettriche che i punti di ricarica, perché sì ovviamente stop anche alle detrazioni del 50% sulle colonnine. Una posizione molto strana del governo italiano, boh chissà come finirà, già l'Italia non è proprio la punta di diamante dell'Europa per le auto elettriche, anzi per il mondo, e se veramente non dovesse esservi alcun incentivo, boh, perderemo ancora di più l'appeal per le aziende che investono in Europa, come magari NIO che al momento è solo in Norvegia e che però sta già pensando di espandersi in altri paesi. Anche perché, diciamocela, l'Italia continua ad essere in fondo alle classifiche legate alla mobilità elettrica, prima Cina, poi Svezia, poi Germania, poi Regno Unito, Corea del Sud, Stati Uniti, Giappone e Canada. L'Italia ragazzi è penultima, subito davanti all'India, ma contando il numero degli indiani, che tra non molto arriveranno le auto elettriche anche lì, insieme all'elettrificazione e ai punti di ricarica, non mancherà molto che l'Italia diventerà il fanalino di coda del mondo elettrico. Un bene? Non credo proprio, anche perché se non si vendono le auto elettriche, come dicevo prima, in Italia non si faranno neanche le infrastrutture e quindi anche le aziende in gioco non faranno business. Ma a proposito di soldi, invece, c'è una nota discordante nel piano di bilancio del 2022, ossia l'eco-tassa. Si acquisterà un'auto inquinante e pagherà da 1.100 euro fino a 2.500 euro. E oltre le tasse sapete cosa non ci piace mai pagare? Beh, ovviamente le multe. Già, e soprattutto quelle multe infami di 1 o 2 km orari in più del limite di velocità. Ma niente paura ragazzi, ho la soluzione a questo problema che ormai ci affligge da quasi 50 anni, perché sì, in Italia è arrivato l'autovelox nel 1972 e da sempre, insomma, si è cercato di evitarlo. Sì, basterebbe andare piano, ma a volte capisco anche benissimo che i limiti sono veramente ridicoli. Comunque, se volete qualcosa che vi segnali per tempo, un autovelox o un tutor o un sistema di foto al semaforo, SafeDrive Mini fa per voi. Costa pochissimo, non necessita di ulteriori abbonamenti, lo mettete in auto e ve ne dimenticate completamente. Penserà lui a farvi risparmiare multe inutili. Trovate il link in descrizione. E a proposito di risparmio, sapete chi è che risparmia sto giro? Beh, la città di Mosca, che stanca di continuare a pagare per il carburante, che tra l'altro in Russia costa pure pochissimo, ha deciso di acquistare altri autobus elettrici che ora arrivano a quota 900, con l'obiettivo di acquistarne ancora altri nei prossimi giorni per arrivare a mille autobus. Mille! Tutti i bus sono costruiti da Kamaz, un'aziendina produttrice di autocarri russa. Una cosina da niente e hanno circa solo 36.000 dipendenti. Vabbè, comunque, questi bus montano batterie a litio tanato, capaci di coprire 66 diverse tratte per un totale di circa 800 chilometri. E per ricaricarli? Beh, l'infrastruttura di ricarica è stata potenziata con altre 150 colonnine HPC sparse per la città, che entro il 2023 diventeranno, pensate, più di 500. Numeri che fanno girare alla testa, ragazzi, un po' come quelli di Cadillac Lyric, che ha ricevuto 5.000 preordini in un solo mese. Beh, tra l'altro, insomma, mi pare pure bellina. E poi diciamo che la mossa commerciale di regalare 10.000 km di ricariche a chi acquista entro fine aprile 2022 non è malvagia. Comunque, non mi sembra affatto male, avrà una batteria da 100 kWh, formata da 12 moduli, sarà trazione posteriore con un motore elettrico da 345 cavalli, capace di sprigionare circa 440 Nm di coppia. Gli interni ricordano un mix tra una Kia EV6 per la console centrale e una Mercedes EQA per il cruscotto, con un display lungo e curvo. Le forme sembrano un po' quelle di una Lexus, vabbè, ma comunque, mi dà quell'impressione. Comunque, ottimo lavoro, Cadillac, proprio bravi. E rimaniamo sempre in Cina con Bide, che festeggia i 1000 Tang consegnati in Norvegia in soli 4 mesi. E fanno bene a festeggiare, bisogna esserne proprio fieri, perché non è assolutamente facile vendere un nuovo marchio, data anche la difficoltà del riperimento dei semiconduttori. A me, devo dire che esteticamente non dispiace. E oltretutto, dispone anche di caratteristiche molto interessanti. Dispone infatti di un doppio motore elettrico da 360 kilowatt complessivi, quindi integrale, alimentati da un pacco batterie da 86,4 kilowattora, che permettono un'autonomia fino a 400 chilometri. Peccato per il prezzo, però, attualmente costa infatti 60.000 euro. Speriamo che arrivino presto anche in Italia e magari pure scontati. E a proposito di Italia, nel 2022 verrà presentata la Lancia YI, che verrà commercializzata entro i primi mesi del 2024. Sarà basata sulla piattaforma Stella Small, avrà una batteria da 59 kilowattora ed un'autonomia di circa 500 chilometri in ciclo VLTP. Bene Stellantis, brava, ottimo lavoro. E rimanendo sempre in tema Stellantis, ancora nel 2022, presenterà 500 Abarth nelle versioni 595 e 695, ovviamente elettriche. E lo so, qui vi farà storcere il naso. Come farà a contenere i pesi? Ce lo domandiamo tutti, in effetti. Ho paura che farà la fine di Mini, bella sì, veloce sì, ma con poca autonomia. Per ora si sa che la 595i avrà 150 cavalli e 200 invece per la 695i. E monteranno batteri al litio da 37 a 55 kilowattora. Spero che non sarà un buco nell'acqua. Come il nuovo aggiornamento di Tesla, visto da molti come un aggiornamento che invece di portarli avanti, li ha portati indietro. Sì, sembra che a moltissimi della community non sia piaciuto e addirittura abbia scatenato telefonate e ticket in assistenza per tornare alla versione precedente. Ovviamente tornare alla versione precedente non è possibile, ma secondo me, ragazzi, è solo questione di abitudine. Io non ci trovo così tanti problemi. Ma se devo essere sincero, ancora non l'ho analizzato a fondo ed infatti ho atteso un po' prima di parlarvene. Ma non vi preoccupate, farò un video dedicato anche a questo. Ma cambiamo discorso e andiamo in Canada, dove l'Associazione dei Fornitori per Vericoli Elettrici Canadesi ha annunciato che lancerà la loro prima auto elettrica autoprodotta. Si chiamerà Project Arrow e sarà un SUV a trazione anteriore lungo 5 metri e senza montante centrale. Verrà presentato nel 2022 e verrà commercializzato nel 2023. Sì, e sinceramente è talmente facile costruire un'auto elettrica che in pratica lo possono fare tutti, o almeno ci possono provare tutti. Basta avere tanti soldi e la cosa si fa. E a proposito di provarci, vi ricordate di DS? Qualche mese fa ha affermato di voler convertirsi all'elettrico. Bene, a gennaio 2022 presenterà un nuovo modello di cui si conosce solamente questa immagine. Avrà 240 cavalli, una batteria da 104 kilowattora e un'autonomia di circa 700 chilometri in ciclo VLTP. Beh, da DS3 i Tense ne sembra di aver fatta di strada, eh? Brava DS, complimenti. E facciamo i complimenti anche a Buick, che sembra essere al lavoro su un concept spettacolare di nome Electra. Sarà un SUV elettrico basato sulla stessa piattaforma di Hummer EV. Avrà 590 cavalli e 660 chilometri di autonomia. E non mi sembra affatto male. A voi piace? E per oggi, elettronauti, le news finiscono qui. Grazie per la visione e buon inizio anno. Ah, e le feppe degli elettronauti sono tornate disponibili, ma sono pochissime. Quindi dateci un occhio prima che finiscono. Ciao!